Sono amato Lamura, sposato e padre di due splendidi ragazze. Molti mi conoscono per la mia grinta e la passione che ho sempre messo nello sport, nella politica come cittadino e per la mia professione. Passione che mi ha sempre visto vicino alla comunità formiana. Uniti possiamo rispondere alle esigenze della città. Per questo sono qui oggi a candidarmi, per dare un volto nuovo a questa città. La precedente amministrazione e la sua giunta ha portato la città al commissariamento del comune. Demagogia, propagandismo, promesse di cambiamento, si sono rivelate delle pie illusioni. In poco tempo hanno fatto emergere forti criticità ed i limiti di una visione di quel progetto politico. Per una città con la nostra storia, il commissariamento è stato uno schiaffo morale che non avremmo meritato e che immediatamente dobbiamo dimenticare e farlo insieme anche per tutte quelle attività economiche, produttive che al momento soffrono così tanto. E per tutte quelle famiglie che guardano con timore al futuro. Per tutti quei giovani che hanno bisogno di una guida e di stabilità. Noi vogliamo cambiare il futuro in certo di Formia, prendendolo per mano oggi, per riportare la città ad essere il punto di riferimento provinciale dei servizi, della sanità, della cultura, del turismo, della portualità. E lo faremo alle elezioni per la scelta del nuovo sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgerà nel prossimo autunno. Avverto la necessità come non mai di essere il punto di riferimento di una coalizione che ha preso l'impegno di affrontare con coraggio e senso di responsabilità l'attuale fase emergenziale. E intendo farlo con una caratteristica imprescindibile. Il mio progetto deve essere e sarà aperto ed inclusivo. Vogliamo cancellare l'accentramento disgregante che la città ha vissuto in questi anni. Non è ammissibile che una città così grande, inclusiva, sia stata danneggiata nella propria dignità ed interezza. Formia non ha periferie, ha tante anime, ognuna unica ma imprescindibile da tenerle unite. Non possiamo più perdere tempo. Il programma politico-amministrativo sarà, e lo garantisco, finalizzato a recuperare tempo per l'Unione. La squadra di governo da me guidata sarà sempre aperta al dialogo, all'ascolto, ferma nei principi espressi poc'anzi. E sarò io, la vostra garanzia, e la coalizione a metterlo in atto. E tutti insieme a tutelare interessi di Formia e dei formiani. Mi batterò con grinta per lanciare Formia, con la fermezza e con la passione che mi contraddistinguono, e che non mi faranno arretrare di un centimetro per raggiungere l'obiettivo di una sana e corretta gestione amministrativa della città. Mi confronterò con tutti, con il mondo civile e delle professioni. L'associazionismo, con uomini, donne, soprattutto giovani che vogliono con responsabilità condividere scelte importanti, per il futuro di tutti. E sia chiaro, nessuno escluso. L'associazionismo, con il mondo civile e delle professioni.